Vabbè, io ho a casa una sfilata di protagonisti negli ultimi vent'anni, giuro, sono il più alto. E non da poco Sarkozy, Asnar, Vladimir Putin, Dimitri Medvede, io mi cirò con i sumi giapponesi. Va bene, facevo il centramanti di sfondamento io nella squadra di calcio, poi le generazioni sono tutte migliorate e tutti i nostri figli sono 15 cm più alti di noi.